Ritorna, dopo 30 anni, la processione di barche nel porto di Napoli. L'evento, organizzato dall'Associazione Stella Maris di Napoli, dall'Ufficio Diocesano Migrantes dell'Arcidiocesi di Napoli e grazie alla collaborazione dei rimorchiatori napoletani, ha visto anche la partecipazione del sindaco Rosa Russo Riervolino e dei assessori al decoro urbano Diego Guida e alle politiche sociali Giulio Riccio. Prevista anche la Santa Messa, presieduta dal Cardinale Crescenzo Sepe. L'evento ha rappresentato poi un'occasione per commemorare tutti i clandestini tragicamente scomparsi durante i numerosi viaggi della speranza verso il nostro paese. Un ringraziamento speciale, da parte del Cardinale Sepe, anche agli uomini della Capitaneria di Porto e al loro instancabile lavoro di monitoraggio e controllo delle coste italiane. Un ringraziamento speciale, da parte del Cardinale Crescenzo Sepe, anche agli uomini della Capitaneria di Porto